Ma guardate questa storia No, sicuro lui trova già un'altra Ciao Oh duro l'hai conquistata Giuro vecchio, ormai è tua Ma cosa guardi? Dai andiamo Grazie Ciao, mi chiamo Matteo Piacere Giorgia Ti vuoi di darci una mano? Sì certo, volentieri Ti presento Matteo È molto bravo, simpatico, elegante E sono figlio di lui Ciao Matteo Ciao Mi rimane Fra, guarda lì È la ragazza che abbiamo incontrato ieri È tornata da Matteo Te l'avevo detto che l'ha conquistata Matteo abbiamo i bicchieri? Sì Sì No, no, no Dov'hai io? Beh, guarda, sembrano veramente felici Andiamo lì? Sì, dai, andiamo Ciao Ciao Matteo, loro sono le mie amiche, chiedili come si chiamano Che ti chiedo Io sono Sofia Io sono Martina Piacere Alessio Possiamo venire con voi? Sì, certo, andiamo Bebe, bebe, bebe Sì, certo, andiamo Ciao 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 Grazie a tutti.